Per la mercante almeno ti spotta Ciao Ballestorm Beh è una pro-killer quella con la 4x4 centrale Non è quella con la 4x4 centrale Freddy è il killer che mi piace di meno Lo trovo noioso perché è un M1 e basta Si basa tutto sul semplicemente premere gli M1 Perché non la bambusano? Ma si è messo in un locker? No Uh Raffaele anche questo è italiano Sono almeno due italiani Regalato che God Palette non posso sfruttarlo per Borea Però magari riusciamo adesso In sto drop di Palette Ok Abbiamo già spiriti fieri pronti Così Prima Palette Prima già non dato Persino meno della Hug Adesso no non esageriamo Uno Ciao Light Sono un survive with friends Abbastanza Abbastanza organizzato Mi ha messo dietro la flashbang E quello da davanti ha provato a flasharmi Per farmi girare Verso la flashbang Perché non ci arrivava la tipa Erano entrambi leggermente off col tempo Forse potrò hittarlo Allianz Senza il forza Erano entrambi off col tempo Perché non ci arrivavano Però Ok Questi vuol danno W Vanno a sapersi Questo è abbastanza Ma non è la dead zone Completamente Nice Questo Palette è debole Non è safe Droppandolo Ma una volta che è droppato Diventa forte Quindi va rotto Per forza Conta che La peggiore main building Rimarrà per Perché sto spendendo tutti i skill Ah per svegliarsi La peggiore main building Rimarrà sempre Quella di Giardino della Gioia Sempre Per forza Non ci sono Cazzi che tengono Sto prendendo un po' di spazio In modo tale che mi droppi Il paletto addosso Così che attiviamo Boria E la tiriamo giù con un hit Mappo orribile Sì la mappa è terrificante Ce n'è nessuno Questo off the record Però dovrebbe essere Dead o nook Quindi mi conviene Comunque andare per lei Infatti Perché adesso Verranno a fargli body Ovviamente Cosa giusta So per farvi capire Che sono un bel pre-made Però se riesco a ucciderla Entro breve termine È nice Se avessi preso Con la finestra Sarebbe morto Muore lo stesso però Nice Stanno facendo anche Questo gen Tempo non ce l'hanno Per far tutti sti body Non so perché Abbiano provato Cioè la fang Che si chiama Mewers Che proventa una ragazza Di sopra Del 0% Davvero l'ha finito Questo c'ha Deliverance Ok Avrà anche off the record Insieme a deliverance Chiudiamo di qua Così lo stringiamo Comunque Anche off the record Anche lui Quindi conviene Hittarle basta E ti è rimasto dentro Sì Brutta scelta Bruttissima Anche se hai aperto Con light Non prenderà mai Abbastanza strada Qui ci arrivo Tutta la vita Bravo fammi guardare Attraverso Al controllo il muro Non metterti In un punto decente Anche a me la fang Sai random Ma Non lo so Quella è ferita Vorrei andare su di lei Però Non me la posso permettere Beh Sicuramente Raffaele Grim Almond Sono insieme Rainards Non lo so Questo qua Lace Non ne ho idea Gli altri due Sono sicuro Che sono in pre-made Ci ho dovuto provare Off the record Ovviamente Va bene Ti tunnelo Allora Molto semplicemente Sei dead on oak Tanto tu Se usi Off the record In modo Difensivo In modo Offensivo Per fare i body Ti meriti Il tunnel Molto semplice DS sicuro Invece no Oppure Ho sbagliato Povero Raffaele No Mi ha fatto Erbatico Con l'off the record Si merita il tunnel Perché non sono riuscito A rallentarlo Con la trappola Speravo di averla Messa leggermente Più avanti Però questa è Abbastanza una dead zone Se non sbaglio Giocarmela Sul camioncino Oppure Non sarei Neanche sbagliarla Non può fare niente Magari è stato proprio Raffaele Di mettere Sto mappa Non è sicuramente Stato Questo Grim E non è sicuramente Stata la Meg È stata O l'Ace O il Random Ok Mezzo È lì dietro Devo fare il tutto A giro Non è sicuramente Grazie a tutti. Non ho preso di quanto, di pochissimo. Lo zoniamo un po', va bene il flash. No, mi sono incastrato dove? Fuck. Merenda. Beh, ragazzi, direi che è ora della merenda che consigliate. Bravissima, serious. Siamo riusciti comunque a ucciderli. Tanto adesso, conoscendoli, non so perché, ma mi aspetto del flampo schema. Nel caso, content! Questa è lì, sono l'ora della merda canon. Questa è l'ora della botta, let's go. Hai visto il snake con il bel tuo main? No. Nel momento, flame? Dai, che triste. Mi aspettavo un po' di flame. Cos'è che vediamo? Va solo questo, ok. Beh, Rebecca stava giocando con Perk un po' meme. Ma forse erano solo in precedenza due italiani casuali insieme, sapete? Dunque era lui che ce l'aveva. Ok. Ok.